Allora, vedete che il fumo va quasi su diritto, no? Perché significa che avremo ancora un anno difficile, migliore però di quello dello scorso anno. Questo possiamo essere tranquilli, va bene? Ricordatevi che bisogna sempre tenere saldo il cuore e sempre aiutare i più deboli. E' un anno difficile, però lo vedo già migliore di quello scorso, perché il fumo è andato quasi diritto. L'anno scorso è andato verso sud e verso sud è miseria. No, non si potrebbe. Va bene. Quindi io direi che l'auspicio, diciamo, data anche la posizione in cui siamo e come ci troviamo, sia abbastanza buono. Anche se non è proprio buono, va bene? Il clima è anomalo, ma io ho paura che venga freddo in febbraio, perché sta girando. E non vorrei che fosse veramente un febbraio freddo, perché abbiamo le gemme già pronte. Non solo, ma ci sono degli animali, ci sono dei funghi già fuori. Animali che dovrebbero essere in ritardo, hanno già cominciato a uscire. Quindi, perché è caldo adesso, no? Va bene? Fate attenzione al calore che fa male. Bisogna restare uniti, quindi dice lei, aiutare gli altri? Il fatto di essere uniti è la cosa più importante. Perché entrare... Insomma, la ragione serve a qualcosa, no? Se non sappiamo utilizzare la ragione è meglio che non parliamo e che non facciamo niente, eh? Perché vediamo i governi che non usano il cervello, non sono come dovrebbero. Il meglio la prima parte dell'anno o la seconda? Qui non lo posso dire. La pandemia, vai che veneranno. La pandemia, io vi dico subito che tanta è nella testa. Va bene? Anche per la guerra. La guerra è una semenza delle persone, vuol dire che non arrivano con la ragione. Non hanno intelletto. Perché fare del male agli altri significa essere, diciamo, dei despoti e non degli uomini. L'uomo dovrebbe essere umano, se umano è.